Sarà la sede distaccata del ventunesimo circolo didattico Mameli Zuppetta in via Pio XII ad avere il primo avvisatore sismico interattivo in campagna, uno strumento che consentirà di agire preventivamente per evitare o attenuare danni alle persone causati da crolli improvvisi delle strutture. Sarà in sostanza un campanello d'allarme in caso di terremoto o in qualunque momento si verifichi un'anomalia e in grado di distinguere in maniera dettagliata fenomeni di assestamento o di cedimento di un edificio. È sicuramente uno strumento di prevenzione perché questo qua riesce ad analizzare, ad archiviare su un database tutti quelli che sono le micro accelerazioni del territorio da 2.0 della scala Richter fino a 3.5 della scala Richter. 3.5 ancora l'organo umano non riesce a percepirlo in locale per cui riusciamo a dare una grandissima mole di informazione agli uffici tecnici comunali e riusciamo a dare, a aiutare quelli che sono le responsabilità all'interno degli istituti scolastici per attivare le prevenzioni che devono attivare per l'evacuazione della scuola. Presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il dispositivo noto come sensore Bavari sarà installato nel pomeriggio nella Pio XII grazie alla donazione della XO Partecipazioni e Servizi. La società di Catanzaro ha infatti adottato l'istituto per tenopeo aderendo al progetto Adotta la mia scuola. Riusciamo a capire che sia i comuni sia le scuole quindi le amministrazioni non hanno possibilità di fondi finanziari e quindi abbiamo deciso di lanciare questo progetto Adotta la mia scuola per sensibilizzare le associazioni di volontariato, le fondazioni bancarie, le ditte, le industrie o le semplici riunioni di cittadini affinché possa dotare ogni istituto scolastico di questo sensore che ha dei costi molto bassi. Non soltanto si tratta di un'invenzione di ultimissima generazione quindi è l'applicazione di un brevetto novissimo ma anche si sviluppa una cultura diversa della prevenzione fatta di un bel connubio tra le misure che normalmente le scuole devono applicare dai piani di antievacuazione alla cultura e alla sensibilizzazione degli studenti a una scienza messa al servizio, tecnica messa al servizio diciamo del cittadino.